29 maggio 2013, lei fa questa cosa, osa fare questa cosa, presenta un DTL in cui si dice va bene, è bellissimo, tutti volete dire il Porcellum, togliamo questo Porcellum, che succede? Succede che se il mio partito vota contro, il Presidente della Commissione Affari Costituzionali giudica intempestiva, dopo sei anni giustamente, intempestiva, poi tutto si addormenta per quattro mesi, per tre mesi, non succede niente, io ero intempestivo, dici vabbè da domani staranno tutti lì a fare zero, allora che succede? Insieme al collega migliore prendiamo un'iniziativa usando un po' di conoscenza del regolamento e avanziamo una richiesta di urgenza, vuol dire che si deve velocizzare l'iter in Commissione delle Leggi alla Camera per chiedere che si ritorni subito sulle proposte del Mattarellum urgentemente, però che succede? Succede che dopo cinque giorni il Senato vota l'urgenza e la incardina fintamente a una riunione della Commissione che è durata 15 minuti, dove hanno parlato in tre per cinque minuti, cioè togliere la legge elettorale dove i numeri c'erano, alla Camera, e portarla al Senato dove i numeri non c'erano. Ora non è una mia opinione, dal 5 agosto sono passati quattro mesi, ne doveva passare uno, e non è che non si è votato un emendamento, un articolo, un test in Commissione, non si è fatto altro che audizioni, che sono molto importanti, un voto uno, su un ordine del giorno che non significa niente, che per di più è stato bocciato. Grasso qualche giorno fa è lui, il Presidente del Senato, che ha detto ai gruppi che c'è una situazione di stallo, io penso che sia il momento di mandarla alla Camera. Sembrava una cosa fatta, arriva la sentenza della Corte Costituzionale, tutti dovranno dare per acquisito che se veramente si vuole rispondere alla Corte Costituzionale e fare presto deve tornare alla Camera, e invece il Presidente della Commissione Affari Costituzionali insieme al relatore fa un bel blitz e lei pensa, dice vabbè, vota un ordine del giorno, vota un emendamento, vota un articolo, no, costituisce il Comitato Ristretto, cioè un numero di parole. Il giorno dopo, il giorno stesso della sentenza della Corte Costituzionale. Cosa serve il Comitato Ristretto? Atteso che non si può votare nulla perché non ci sono i numeri né a largo né a stretto, serve a prendere tempo e a perdere tempo. Scusi, onorevole Giacchetti, ma chi è il Presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato? Guardi, quello è un fatto pubblico, credo, quindi non credo sia una cosa privata. Si chiama Anna Finocchiaro. Perché secondo le parti del PD vuole restare aggrappata a questo porcellum? Perché c'è una, diciamo, una vecchia guardia che certamente vuole mettersi di traverso all'uomo che deve avanzare anche nel Partito Democratico. Chi è Renzi? Beh, io penso che sia Renzi, ma devo dire che sotto questo punto di vista anche Civati non cambia molto.